Ehi, salve a tutti per ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain Oggi vi mostrerò un HDD esterno, quindi un hard disk esterno molto performante Si chiama MaxTor ed ha un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale Con 2TB interni di memoria integrata Andiamolo a scoprire insieme Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai Allora ragazzi, vi parlo subito di questo HDD esterno Stavo cercando appunto in questi giorni un nuovo hard disk esterno Per ampliare da 1TB a 2TB i miei backup che faccio con il mio Mac appunto Ovviamente può essere usato per qualsiasi cosa, copiare file, passare file da un dispositivo all'altro Io personalmente lo uso per effettuare i backup sul mio Mac E devo dire ragazzi che mi trovo veramente bene Vi dico intanto che supporta l'USB 3.0 Quindi un trasferimento file veramente rapidissimo Ha un form factor da 2,5 pollici E tra l'altro ha un materiale molto resistente sia alle cadute sia ai urti ma soprattutto anche ai graffi La sua velocità di trasferimento equivale a circa 500 MB al secondo Davvero fulmineo Ovviamente non c'è da preoccuparsi anche perché qualora il vostro computer che sia Mac che sia Windows non supporti l'USB 3.0 Il sistema in automatico si adeguerà alla 2.0 Pesa semplicemente 286 grammi ragazzi Ed è secondo me il miglior hard disk esterno da 2TB ovviamente per rapporto qualità prezzo Amazon stesso conferma ciò ed infatti lo mette come prodotto plus da acquistare veramente in grande quantità Infine ragazzi vi dico che ha il classico attacco di un qualsiasi hard disk esterno Che riporta ovviamente ad un'uscita USB da collegare al vostro computer E qui sotto in descrizione vi lascio il link per acquistare questo prodotto Attualmente in sconto come leggo qui a soli 68,78€ Il prezzo originale è di 81€ quindi qualora doveste trovarlo al di sotto degli 81€ ma anche con un prezzo leggermente maggiorato di 68€ Acquistatelo ragazzi perché è il miglior hard disk secondo me ovviamente e anche secondo Amazon Con rapporto qualità prezzo da 2TB Potrete tranquillamente eseguire backup sul vostro Mac O trasferire file da un computer all'altro Riempirlo di film, riempirlo di musica Potrete utilizzarlo in qualsiasi modo anche perché con 2TB a questo prezzo potrete fare praticamente ogni cosa Io come al solito ragazzi vi saluto Vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video Come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio Iscrivetevi e commentate Ci vediamo al prossimo appuntamento Sempre qui con Mirko per AppleZain.net E ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon Ed il link lo trovi qui sotto in descrizione O sotto al logo del nostro sito AppleZain.net Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!